In questo tutorial affrontiamo l'esercizio numero 2 sulle proprietà degli angoli del triangolo equilatero. Leggiamo il testo del problema. Sui tre lati di un triangolo equilatero ABC considera tre punti R, S e T in modo che risulti a R congruente a BS congruente a CT. Congiungi tre punti. Dimostra che il triangolo R, S e T è equilatero. Vediamo come poter dimostrare la tesi del problema. In figura abbiamo un triangolo equilatero di vertici ABC. Considero ora sul lato AC un punto R, sul lato AB un punto S e sul lato BC un punto T in modo che AR risulti congruente a BS e risulti congruente a CT. Unisco ora R, S e T. In questo modo resta definito tale triangolo. Devo dimostrare che questo triangolo è un triangolo equilatero. Per far questo fisso l'attenzione su questi tre triangoli, ossia sul triangolo di vertici ARS, sul triangolo di vertici R e CT ed infine sul triangolo di vertici STB. Voglio dimostrare che i tre triangoli sono tra di loro congruenti. Osservi innanzitutto che i tre triangoli hanno AR congruente a BS congruente a CT per costruzione. Inoltre l'angolo in A è congruente all'angolo in B ed è congruente all'angolo in C, in quanto il triangolo ABC è un triangolo equilatero e quindi gli angoli interni risultano tra di loro congruenti. Infine AS risulta congruente a BT e risulta congruente a CR. Questi segmenti sono tra di loro congruenti perché sono differenza di segmenti tra di loro congruenti. In altre parole AS non è nient'altro che la differenza di AB meno SB. BT è la differenza di BC meno CT ed infine CR è la differenza di AC meno AR e quindi la differenza di segmenti congruenti dà luogo a tre segmenti congruenti tra di loro. I tre triangoli allora hanno due lati e l'angolo compreso congruente e quindi risultano congruenti per il primo criterio. Essendo congruenti allora vuol dire che RS è congruente ad ST ed è congruente ad RT e quindi fissando l'attenzione su questo triangolo ho un triangolo con tre lati congruenti e quindi risulta essere un triangolo equilatero. In questo modo ho dimostrato la tesi del problema.